Qui vi presentiamo le 5 migliori grattugie elettriche. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Ariete 448 Gratty Professional. Grattugia elettrica con rullo professionale. Dispositivo domestico elettrico specializzato Ariete che garantisce prestazioni ottimali e soddisfa le aspettative dei clienti, eccezionali sui commenti su internet. Passando al numero 4. Ariete 447 Gratty 2.0, grattugia elettrica ricaricabile senza filo. Design ingegnoso che pone le prestazioni della grattugia Ariete in verticale, linee morbide e contemporanee che si forniscono ad essere facilmente inserite direttamente nelle aree in cucina di qualsiasi tipo di casa. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Ariete 44 Gratty Metal. Grattugia elettrica ricaricabile. Feedback positivo e anche clienti completamente soddisfatti. La grattugia elettrica Ariete è un elettrodomestico eccezionale con prestazioni esperte. L'aiuto affascinante, che si adatta a qualsiasi tipo di design. Almostat è top of our list at number 2. Imetec la grattugia, grattugia elettrica. Stile moderno e anche ergonomico, prestazioni eccezionali e professionali questa grattugia Imetec si distingue per la sua struttura robusta e anche le dimensioni portatili. E infine il numero 1 della nostra lista. Imetec Grattugia è la grattugia elettrica ricaricabile. È la pratica grattugia con batterie ricaricabili per grigliare il formaggio direttamente sul tavolo. Cordless è comodo da tenere, grattugia elettrica è azionato con una leggera pressione della mano. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.